Quali sono i migliori SUV ibridi da comprare nel 2020? Quali vetture sono disponibili con questa motorizzazione? Per fare questo video ho utilizzato il nostro sito drivek.it in maniera molto semplice con due o tre passaggi ho selezionato prima l'alimentazione appunto ibrido e poi successivamente anche il prezzo massimo. In questo caso mi sono concentrato su veicoli al di sotto dei 45 mila euro perché se avessi scelto dei veicoli anche al di sopra di questo prezzo davvero non ci saremmo stati coi tempi all'interno di questo video anche perché poi ci sono tante vetture disponibili con motorizzazioni plug-in hybrid, tante varianti diverse dello stesso modello come ad esempio BMW X3 oppure ancora BMW X4 che è un coupé, poi ci sono tutte le varie, insomma tantissime cose diverse. Trovate tutto sul nostro sito ma in questo video ci concentreremo sulle vetture sotto i 45 mila euro. Una delle vetture più interessanti è la Chiania, una vettura lunga 4,35 metri di lunghezza e all'interno di queste dimensioni piuttosto compatte offre comunque molto spazio interno, tra l'altro è una vettura che ha a disposizione una motorizzazione full hybrid quindi alle basse velocità o diciamo più genericamente in città riesce a viaggiare in modalità soltanto elettrica e riesce anche a stare intorno ai 20 chilometri con un litro di percorrenza minima quindi secondo me è un buon risultato, anzi direi ottimo per quel che riguarda questa categoria di veicoli e poi è disponibile anche in modalità plug-in hybrid quindi con batteria ricaricabile a circa 36 mila euro una vettura che può percorrere quasi fino a 60 chilometri in modalità elettrica Suzuki Vitara Hybrid è un'altra vettura interessante, 4,17 metri di lunghezza, veramente molto molto compatto ma spazioso all'interno, leggero e dotato tra l'altro volendo di trazione integrale con la motorizzazione 1.4 hybrid che peraltro adesso è anche l'unica disponibile a listino precedentemente c'era sempre un 1.4 non hybrid, adesso hanno adattato quel propulsore per viaggiare grazie anche a questo motorino elettrico che aiuta il motore in accelerazione e recupera energia in frenata quindi è un ibrido di tipo mild hybrid, queste poi sono differenze che chi ci segue da tanto tempo già conosce qui sotto nel primo commento vi lascio due link per poter approfondire i discorsi proprio sulle ibride perché non tutte sono uguali, ovviamente non tutte hanno lo stesso impatto sui consumi ma anche in questo caso vettura molto interessante la Vitara che proveremo molto presto sul nostro canale la Honda CR-V è un SUV di grandi dimensioni, 4,60 m l'abbiamo provata sul nostro canale in tanti ambiti diversi e non soltanto per il test drive ma l'abbiamo messa anche a confronto con la sua acerrima rivale ossia la, vabbè tra pochissimo lo vedrete però le caratteristiche della Honda CR-V sono particolarmente interessanti per i consumi anche in questo caso è una full hybrid quindi in città si viaggia molto 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 spesso in modalità soltanto elettrica e si installa in circa sui 20 km con un litro se chiaramente si sfruttano le potenzialità del sistema ibrido quindi parliamo di una vettura spaziosa e anche in questo caso una vettura che poco sotto i 30.000 euro comincia a offrire già un buon pacchetto di tecnologia e qual è la acerrima rivale di Honda CR-V a cui mi riferivo poco fa? esattamente la Toyota RAV4 che in questo caso è un SUV di grandi dimensioni, 4,60 m impostazione completamente diversa rispetto alla Honda ma comunque i punti di forza sono sempre quelli anche in questo caso abbiamo una vettura full hybrid e quindi in città si utilizza per la maggior parte del tempo soltanto il motore elettrico e poi abbiamo dei consumi molto validi circa 20 km con un litro anche in questo caso le medie sono grossomodo simili tra Honda e Toyota e poi abbiamo anche un buono spazio interno quindi una vettura interessante secondo me e tra l'altro Toyota è anche proprio sinonimo di ibrido ormai anche perché le automobili che vende se non qualche eccezione sono appunto dotate tutte di questa motorizzazione dicevo Toyota è sinonimo di ibrido all'interno della gamma Toyota abbiamo un altro SUV compatto anzi un crossover compatto che si chiama CHR sicuramente lo conoscerete o comunque l'avrete già visto sulle nostre strade anche perché qua abbiamo una vettura molto apprezzata nel corso degli ultimi anni dei clienti italiani un modello rinnovato poco fa con un restyling non molto marcato a livello estetico più diciamo concentrato sui contenuti un prezzo di listino che parte da poco sotto 30.000 euro non molto spazioso all'interno ma se cercate qualcosa di accattivante con questa motorizzazione Toyota CHR anche qui è da prendere in considerazione Hyundai Tucson è una delle vetture più interessanti del segmento ma purtroppo non offre la motorizzazione full hybrid che è quella che impatta di più sui consumi ovviamente in maniera positiva se usata nel modo giusto però c'è una motorizzazione mild hybrid comunque con un piccolo aiuto in accelerazione è un sistema di recupero dell'energia in frenata come abbiamo visto anche su Suzuki Vitara però anche in questo caso è una vettura che vale la pena prendere in considerazione per i contenuti tecnologici anche ma soprattutto per il prezzo di listino siamo intorno a 31.000 euro quindi decisamente meno rispetto alle concorrenti anche in questo caso ci sono delle offerte piuttosto interessanti sul listino le trovate tutte sul nostro sito cliccando qua su in alto a destra e chiaramente avete anche la possibilità di vedere la nostra recensione sul canale e sempre qui sotto nel primo commento vi lascio anche in questo caso un po' di link così potrete avere un po' più le idee chiare e chiaramente lascerò anche la recensione della Hyundai Kona Hybrid un altro modello interessante full hybrid quindi alle basse velocità viaggia soltanto in modalità elettrica è un crossover spazioso all'interno comunque non è molto grande nelle dimensioni non offre lo stesso livello di spazio di Suzuki Vitara sono due veicoli completamente diversi non è disponibile la trazione integrale però appunto qua abbiamo anche un modello che è stato ben adattato secondo me all'esigenza di una clientela che cerca sempre di più appunto una vettura con consumi bassi e in questo la Hyundai Kona Hybrid in effetti riesce a fare centro non posso concludere questo video se non parlando della Volvo XC40 una vettura che si fa guidare molto bene soprattutto che fa anche della sicurezza sia attiva che passiva un punto forte chiaramente come tutte le Volvo motorizzazioni sia mild hybrid la B4 che rientra proprio al di sotto dei 45.000 euro siamo a quota 42 circa con 197 cavalli e poi c'è anche la versione plug-in hybrid però in questo caso siamo oltre i 45.000 euro seppur di poco perciò non possiamo considerarle in questo video ma sul nostro sito cliccando qua su in alto a destra potete vedere tutte le caratteristiche delle auto e soprattutto vedere quanto costano e magari fare i calcoli proprio anche con gli incentivi nazionali previsti per questa tipologia di vetture e vedere appunto quanto potete risparmiare sul nostro sito noi ci vediamo alla prossima sempre qui su DriveK se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube ciao alla prossima ciao